Geometrie, angoli, poligoni, frattali, ed io un punto smarrito tra queste inesorabili spirali, vagando a ritrovare la dispersa via, quel che è la ragione che dalla mente tanto smuove, ma che nulla del cuore ricompensa, non sa donde venga né dove approderà, né di sé a coscienza e mai sa quieta a ritrovare sé stessa. Col saggio pisano si insinua tra i segreti della grande madre e da questi teoremi va sperando ogni risposta, così tra sublimi illusioni e disattese mete errando vaga alla deriva per oscure e ignote dimensioni.